Il Canosa è partito e sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi. Funziona la cura di Zinfollino e pazienza se stavolta Rana non era in campo. Battuto infatti anche il Mola che ha provato a strappare almeno il pari sino alla fine. 2-1 il risultato del San Sabino. Gara che parte in sordina nel primo tempo, ha vari di emozioni i primi 20 minuti. Al 24esimo la prima occasione per i locali con una punizione di Loseto, palla respinta. Al 29esimo ecco il vantaggio. assisti con Ecke sfreccia, palla invitante proprio per Loseto che si inserisce bene e non sbaglia, trafiggendo Leuci. 1-0 il Mola prova a reagire e se al 45esimo Lopez non ha fortuna, a rimediare ci pensa Daniele al 46esimo. In pieno recupero centrata prima la traversa e qualche istante dopo la rete si gonfia. 1-1 nella ripresa il Canosa parte subito bene e dal 55esimo arriva il nuovo sorpasso. Cross di Loseto perfettamente calibrato per l'inserimento di Caputo che sorprende Leuci. Azione da manuale e 2-1. Al 58esimo Cone si divore al Tris. Al 61esimo Bonasia spreca una buona opportunità per pareggiare, quindi i minuti finali. Ancora Cone al 93esimo non è fortunato. Al 96esimo Evano anche l'ultimo tentativo molese su punizione di Fiorentino. Finisce così. Sale a quota a 12 punti il Canosa. Sempre terzo il Mola a 22 con Sansevero e Unione Calcio Biceglie.